Torniamo a Napoli, in prefettura si è discusso dell'amministrazione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla malavita. Piero Vitiello. Un'ottantina su Napoli, 120 se non sbaglio su Marano, molti anche su Mugnano e poi abbiamo avuto Giuliano e altri comuni della provincia. I numeri riferiti dal prefetto di Napoli Claudio Palomba riguardano immobili e terreni, circa 300 nell'area metropolitana di Napoli, sottratti alla malavita e che i comuni sono pronti ad acquisire e reindirizzare a fini sociali. Lavori illustrati in prefettura nel corso della conferenza di servizi promossa dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. Su 361, solo una sessantina caratterizzata da abusi insanabili non ha trovato enti locali disposti all'acquisizione. Per gli altri il percorso è già tracciato, molti progetti riguardano agricoltura e artigianato. Nel caso degli orti sociali voi capite bene che si tratta di un qualche cosa che va veramente a contatto diretto, stretto con la popolazione del luogo e con i ragazzi. Aggiungo anche un'altra cosa, l'utilizzo di una parte dei beni per creare dei corsi di istruzione nei confronti dei ragazzi. Dal punto di vista della legislazione cerchiamo e stiamo lavorando per intervenire sul testo perché i tempi ovviamente che necessitano alla giustizia spesso sono molto lunghi.